salve il popolo di youtube oggi primo ottobre 2024 attenzione voi sapete io amo far assaggiare il mio prodotto non venderlo così eccolo qua 10 e l'8 serale che sicuramente non nel giro di nuovo li piacete su tutti i social faranno il giro che ve lo dico a fare eccolo qua il prodotto va fatto assaggiare amici tre colpi tre martedì giovedì venerdì ma mettiamoci pure sabato perché di solito sabato abbiamo sempre il cassato martedì giovedì venerdì sabato qui c'è pure la data prima ottobre 2024 e la firma va bene regalo per tutti gli amici ma regali che hanno un senso di regali così giusto per finire che la roba la non servono neanche si danno previsione poi si dimenticano si mettono nel dimenticato e ci si dimentica di aver dato delle cose che poi non si sono mai presentato ma adesso attenzione muovito subito la previsione del 10 l'8 udito 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 un attimo subito così chi vuole se la può anche andare a giocare amici allora adesso sono le 9 e 44 vedete vediamo un po 9 e 44 vediamo un po ecco qua amici miei 52 25 38 83 se volete pretendare le terzine secche 52 25 38 52 25 83 o la quartina 52 25 38 83 a partire dalle 9 e 50 perché adesso sono le 9 e 45 un po' di classe ci vuole è